Un altro passo è stato fatto, l'apertura della sede di Fratelli d'Italia. Sì, stiamo per inaugurare questa sede, ricreare una casa a Fratelli d'Italia, ricreare una casa ai tesserati, ai simpatizzanti di questo partito, che devo dire onestamente, senza farsi proclami, si sta avvicinando ogni giorno di più. Forse perché hanno capito che questo partito non fa parole, ma fa fatti. In poco tempo diverse sono state le iniziative, poco più di un mese fa abbiamo parlato, ho presentato il circolo, già state fatte diverse iniziative e approfittando anche dell'apertura della sede vogliamo che questo diventi un laboratorio, un laboratorio di idee da elaborare poi e da proporre per il bene di questa città. Diciamo che è un recupero di quello che dovrebbe essere la politica, un servizio al cittadino, un laboratorio di idee. Nell'interesse di questa città, della provincia e anche dello Stato italiano perché non dimentichiamo che le iniziative verranno fatte anche per quanto riguarda le tematiche e riguarda anche la Nazione Italia. Un invito ai cittadini a capire che la vera politica si fa e la si vuole fare in maniera molto seria anche discutendo all'interno della sede. Ma guarda, Giusy, devo dirti che oggi è una giornata un pochettino particolare perché nemmeno a farla apposta, il 9 novembre del 2013, Fratelli d'Italia ha inaugurato la sua sede il largo primo maggio. Una strana coincidenza perché dopo quattro anni di nuovo riviviamo lo stesso evento. È una coincidenza strana che mi fa pensare perché comunque siamo stati presenti da subito sul territorio nel momento in cui il partito è nato a livello nazionale per una serie di situazioni, di eventi anche per il fatto che la gente comunque si era allontanata dalla vita politica. Siamo stati un pochettino in disparte per un periodo, però ci siamo sempre stati. Abbiamo sempre sostenuto le battaglie del territorio e continuiamo a farlo. Oggi ci riproviamo, più forti di prima, con la consapevolezza che possiamo fare tanto perché è arrivato il momento della nostra conquista.